Ascoltiamo Gordon, sicuramente ci attaccheranno il 30.000 Una sommossa, sicuramente ci andremo noi Come gli devo sparare a questi, io? Che devo fare, non ho capito ragazzi Ma gli devo dare le spinte, gli devo dare Ma che cavolo Mi sono persi, mi sono Perfetto Mi stavo a scordare come si faceva Oddio Bella Quindi dobbiamo spingerli Bastardi E che cazzo Mi sta pazzi E che cazzo Mi sapevamo sparare E dovevamo invece no Fuori dai piedi Un po' Perfetto Perché li posso sparare i missili? Io no cavolo Vaffanculo Vaffanculo va Tu portaci là tutti interi Batman Non abbiamo più tempo Vaffanculo Voglio fare salire là dietro E vedere come si stava Arcontissimo La curiosità Prima di andare alla torre Vorrà sentire l'analisi delle forze del cavaliere di Arkham che aveva richiesto Interessante Ho impostato il bat computer per analizzare la presenza di miliziani sulle tre isole e fornirle una rappresentazione in tempo reale delle forze d'occupazione in ogni zona Quindi Come puoi vedere mia Ghani Island è densamente occupata con numerosi droni terrestri a presidiare le strade Founders Island è la roccaforte dei miliziani protetta da radar a lunga portata e un lanciamissili le consiglio di non avvicinarsi con la Batmobile per il momento I droni rimasti su Bleak Island sono stati messi a protezione della torre dell'orologio quindi si preparano una resistenza notevole E' 12 droni Grazie Alfred Niente vedete che Uno sta davanti a noi proprio Ma guardate che Oh 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 Ciao Evita 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 Oh che cazzo Ma ne erano 12 solo Sgombrerò l'area e ti farò sapere quando sarà sicuro Ah solo due non sparati Beh è meglio di niente Ciao bastardo Ok vabbè vaffanculo Aia Ok Cazzo lo esce sempre Maledetto Ciao E' quasi quasi rotto il cazzo l'ultimo Questa è l'ultimo drone della mappa Ma possono rimandargli oppure Siamo a truppe della milizia alla torre dell'orologio Jim Rimani nella Batmobile Ti faccio sapere quando l'area è sicura Non sta capendo lo che è qua Rivalrò seduto qui mentre vai a prendere quei bastardi Invece si Jim Barbara non vorrebbe che ti facessi ammazzare Sarò da te un minuto dopo aver finito Un secondo Ma l'hanno presa quindi qua dovremmo Penso cerca solo prove Con il masato portata via Vediamo un po' Non è sicuro entrare con i miliziani sul tetto della torre dell'orologio Che te frega Quindi facciamo fuori i miliziani Abbiamo capito questo Stiamo perdendo tempo Il pipistrello non c'è Il capo dice che verrà a cercare la finta di rock Allora dove sta a chi? Ci sono i blindati a battugliare l'area Non li passerà mai Mi devo liberare da lì Se ci riesco La Ace era solo l'inizio Preparati Batman Questa notte sarà molto lunga L'ha visto ragazzi Oddio per poco eh Ah posso fare i capo invertiti adesso Quindi da cargol si può fare Ma non mi deve vedere però Qua stanno in telecazzo Non posso quello mi vede Se si gira all'improvviso No non si sta girando Quello è poi rimasto qua Tutti qua stanno Ma che balordio Oddio Qua pure in capo di quelli tribli Ciao Fuggi adesso Fuggi Batman Ma Bene ho fatti fuori fuori abbastanza eh L'abbiamo perso Dividiamoci per lo striamo Quanti sono rimasti? Uno? Due? Vabbè Facciamo fuori subito Ciao Oh ma ci stavo accanto Quanto mica l'avevo visto eh Piano Repa Certo Non sto riuscendo a fare bene Batman Quelli precedenti Era una spada a ste cose Tutte e due lì Tutte e due lì Lo sale qua e noi andiamo a prendere questo Ciao Dormi dormi Fai buon riposo Buon riposo L'ultimo È rimasto quello là E se ne va a fanculo anche questo Mamma mia oh Ora possiamo entrare spero Area sicura Vediamoci nella torre dell'Orore Bene Sono sempre più curioso di Scoprire chi cavolo è sto cavaliere di Arkham Porco cane Allora Sta qui Barbara È un po' pazzo ragazzi Esploderà Perchè è così silenzioso? Perchè è così silenzioso? Ma che è? Ma se lo sta a sognà Aspetta a spegnere non ancora Andiamo Fai vedere quanto vali Uh Vediamo il Joker con la videocamera E' la copertina Oddio come si chiamava Quella fatta da Alan Moore Cavolo Non me lo ricordo quel titolo Perchè quella è disegnata da Alan Moore Mi pare Ma Barbara Ma che cazzo sta a fare Batman Ma l'è matto Però non è che è per lui Quell'ultima cella ragazzi Ci sta una scritta qua Questa cosa accade quando Tu trovi i tuoi amici Game of War Quindi Questo è quello che accade Ok ma che dobbiamo fa' Ah non c'è nulla come un gran bel tuffo nel passato Eh Batman E ora ho un posto in prima fila al grande evento Come se il vecchio Jim Gordon non ne avesse passate abbastanza Prima un giovane e piacente maniaco gli paralizza la figlia E ora non si da pace per il suo rapimento Dovresti dirgli che è tutta colpa tua Batman Sono certo che capirebbe Voglio dire Non è che tu abbia fatto ammazzare sua figlia Almeno non ancora comunque Ma è tutto un casino ragazzi E' ancora giovane Siamo un bastardo Joker Ma uccidelo un po' Che dobbiamo fare E' là c'è stata la statuetta Sta salendo E si sbrigasse allora Oddio no Oddio no Aia Quindi Batman stai un pazzetto ragazzi Certo che si Rain l'ha fatto per arrivare a me Dovevo essere qui C'è una cosa che devo mostrarti Non abbiamo tempo Lei non è come noi No di più Identità confermata Ma prima dice che non posso farlo sta bene Gordon E poi glielo fa vedere Lei è forte Jim Più forte di quanto pensi Lavora per te È tutta colpa tua Io la troverò È la mia famiglia Mia figlia È tutto quello che ho Sporaccio però Non avrei dovuto fidarmi di te Mai Nooo Me la caperò da solo E vabbè capisco il suo redimento di culo ragazzi Stando dalla mia famiglia Però Apposta perché noi lo capiamo Stanno a trovarla ragazzi Stanno a trovarla Allora Eccolo qua Niente Può mandarlo Batman Tutto sto bene tutto sommato Certo io non gliel'avrei detto Ma è per questo che è così liberatorio essere in me Le cose si faranno interessanti Batman Ma oddio ma Quindi Quel posto è per lui È per Bruce Wayne Devo scoprire cosa è successo a Barbara Si sono coperti disattivando la videosorveglianza della torre dell'orologio Se penetrassi la videosorveglianza municipale Poi potrai monitorare tutti gli accessi all'edificio Ok Ok Quindi Che dobbiamo fare? Che facciamo capito stanno le prove? Concentrati Devo scoprire chi ha rapito Barbara e come Eh ma non capisco No non funzionerà Devo scoprire come hanno rapito Barbara Capiamoci qualcosa Qui non c'è nulla che mi dica come hanno rapito Barbara o chi sia stato Non c'è nulla e dove sta qui forse Non mi piace Devo scoprire chi ha rapito Barbara e come la stanno trasportando Concentrati Sto cercando di capirlo Devo scoprire chi ha rapito Barbara e come Qui non c'è nulla che mi dica come hanno rapito Barbara o chi sia stato Ah ma va avanti le immagini Ho capito ma va fam bene va Possono essere ruotate Vediamo un po' che succede qui ragazzi eh Aspetta Vediamo dove vediamo Barbara No non c'è qua No non c'è qua Così sembra almeno Vediamo un po' No non funzionerà Devo scoprire come hanno rapito Barbara No qui non compare nessuna Barbara Vediamo qui Ci stanno combattendo ragazzi Non vedo sempre comunque non vedo movimenti sospetti Non mi piace Devo scoprire chi ha rapito Barbara e come la stanno trasportando Non è qui vero Non è qui No non è qui Ah ma sono degli tutti guanti Eccoli Eccoli Forse qui Eccoli qua E' probabile che l'abbiano portata via in uno di quei veicoli Devo individuare quale e rintracciarlo E' la milizia del cavaliere di Arkham Eccoli Eccoli Quello è il cavaliere di Arkham A Barbara Devo confermare in quale auto la tengono Là Ecco il mezzo con cui hanno portato via Barbara Gli pneumatici sono Amertek D60 Programmerò la Batmobile affinché rilevi il disegno del Battista Addirittura porco cane Poco la pioggia incessante che c'è Porco cane Non so come vuole Oddio Stava avrando certi orpi questo stronzo Quindi Joker l'ha resa Su queste rodelle Capito Joker Ok Seguiamo sto battistrada Vai Oddio Oddio Come cazzo Ah perfetto Solo che ci mettiamo 13 anni così Però Voglio il nome del cavaliere di Arkham Anch'io signorino Bruce Lo presumo che ha scelto quel titolo per un motivo Da dove suggerisce di iniziare Arkham City Consulta i file di ogni detenuto che è stato rilasciato dopo la morte di Hugo Strange E Alfred Sì Sì Sapevano di Barbara Viva i protocolli di sicurezza della Batcapella Non ha passato a rilasciare Non ha passato a rilasciare Non ha passato a rilasciare Che si fermano qui Ah eccole Allora siamo Dovamo riattivarle Dove avevamo Un protettore Ma non sai proteggere nemmeno i tuoi ammocini Che cazzo è lui? Oh Drone da combattimento Che cosa ha lasciato? Una mina Alfred La milizia ha schierato un dispositivo Ha scappato a fondo nella strada E sarà una mina no? Lo vedo Dispiegano dispositivi simili in tutta la città Indago subito Provaremo No la macchina va Parco 3 a centrale C'è un ordigno della milizia allo scavo ferroviario Proprio accanto al commissariato È una bomba Alfred Ed è molto corazzata Oh cielo In tal caso sir Non sarebbe prudente allontanarsi un tantino? Creerò un collegamento remoto con il bat computer E la colpirò con tutti i virus che ho Concluso l'hacking Ne esporrò il nucleo E la disinnescherò con un'esplosione controllata Bene sir Però l'avviso che la milizia ha gescherato un protone di blindate A controllo remoto per fermarla Impossibile Mortarci loro Sir Il caricamento del virus ha reso instabile il dispositivo Se si allontana troppo e perde la connessione Radirà al suolo tutto nel raggio di 10 isolati Quindi voi rimanete qui vicino E vaffanculo su tanti eh Porco dissimo Ma mica scoppia questi eh E che cazzo Vai parti, vai parti sti cazze di missili Bella ragazzi Ciao Aia questa ma mi ha preso Questa botta mi hanno preso sti caconi eh Ciao 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 Aia ma Oh vai sali No 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 Non scendere Non scendere Bravo Vai Perfetto Credi che sia il cavaliere oscuro? L'intera città è pronta a saltare in aria Prova a disinnescare gli esplosivi e dovrei affrontare ancora più droni Sono anni che aspetto questo momento Allora da qua dov'è passato eh Vediamo eh Sta scannerizzando la strada Ci siamo persi le impronte Ah ecco Vai Qua Vai Bastardo Ammesso mine C'ha un esercito porco cane Addestrato anche eh Cioè stavolta non stiamo a parlare di sgherri Besi a cazzo da una prigione no Stavolta abbiamo contro dei miliziani addestrati La pista del cavaliere porta a Miagani Island Abbassa il Mercy Bridge Non posso sir Siamo chiusi fuori Devarei oh Dobbiamo essersi collegati al sistema di controllo dei trasporti Trovami il loro punto d'accesso Bene Analizzando il traffico di rete si direbbe tutto reindirizzato verso Grand Avenue Station Allora è lì che saranno Ci vado a piedi e acquisisco il punto d'accesso A piedi A voi A te Sia prudente Miagani Island Brulica di droni e truppe della milizia Tranquillo Sappiamo il fatto nostro A presto 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 A presto